Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la pagina politica partiamo dalle beghe interne al centrodestra dove si ragiona ormai già da qualche tempo sulla prossima candidatura a governatore della regione anche perché superata la fase delle amministrative bisogna già pensare alle regionali visto le prossime dimissioni del presidente senatore Luciano D'Alfonso. Andiamo a vedere insieme il servizio che fa un po' il punto della situazione anche sulle divisioni interne e sulla querel di Martino Di Stefano. Sentiamo. La resa dei conti dentro Forza Italia ci sarà sabato 14 luglio quando a Pescara sono stati convocati gli stati generali alla ricerca di un candidato presidente della regione capace di riportare gli azzurri a capo del governo regionale. Molto probabilmente sarà la provincia di Chieti ad esprimere il candidato azzurro di primio febbo la coppia di sfidanti con il sindaco di Chieti che però sembrerebbe in vantaggio rispetto al consigliere regionale presidente della commissione di vigilanza. Ieri nella sede di Forza Italia in via Raffaello a Pescara c'è stata una riunione politica tenuta dal coordinatore regionale del partito Nazario Pagano per analizzare i risultati dei ballottaggi e iniziare a disegnare le strategie per il futuro. La sconfitta di Gian Donato Morra a Teramo e la contemporanea vittoria del primo sindaco della Lega a Silvi rischiano di spostare gli equilibri interni alla coalizione aumentando le divisioni nei forzisti. Divisioni che arrivano da lontano dalle candidature alle politiche e che continuano nella sostanza e nelle dichiarazioni alla stampa basti pensare alla disputa di queste ore tra Fabrizio Di Stefano e Antonio Martino giocata a colpi di comunicati. Non è un mistero l'ambizione di Di Stefano ad essere candidato governatore ma lo stop arrivato dai maggiorenti del partito che fa il paio con la mancata ricandidatura in Parlamento potrebbe determinare una spaccatura insanabile. Di Stefano butta acqua sul fuoco e ammicca la Lega che con il coordinatore regionale Bellachioma continua a rivendicare e contendere la candidatura a governatore in virtù della posizione di governo e dei sondaggi. Io posso che essere soddisfatto qualora dovesse essere vero questo aggradimento ma non ne sono responsabile e certamente è vero che la mia intenzione è quella di provare a cambiare il percorso di una regione che 4 anni a guida d'Alfonso ha letteralmente massacrato in tutti i suoi settori vitali dalla sanità ai trasporti, dai fondi comunitari all'occupazione. Quello che mi è dispiaciuto è questa reazione scomposta dell'On. Martino che anziché pensare a individuare l'avversario da battere nel centro-sinistra del Movimento 5 Stelle ha semplicemente enunciato alla sua contretta una mia eventuale ipotesi di candidatura. Forse l'On. Martino è poco avvezzo a attaccare la sinistra perché fino a qualche tempo fa era sul palco della Leopolda con a fianco a Renzi e quindi preferisce le guerre interne. Ma io credo che con un po' di serenità riusciremo a trovare una soluzione migliore per l'Abruzzo e per gli abruzzesi. Adesso la cronaca. Ha picchiato la moglie e poi ha sparato un corpo d'arma da fuoco contro il figlio di 20 anni mancandolo e centrando il mobile alle sue spalle. I carabinieri della stazione di Carsoli hanno arrestato un 54enne del posto con le accuse di tentato omicidio, ricettazione e detenzione di arma clandestina e alterazione di armi. La notte scorsa, in seguito alla chiamata di emergenza fatta dalla donna, 44enne di origine albanesi, i carabinieri sono intervenuti e dopo aver bloccato l'uomo hanno ricostruito la dinamica della discussione degenerata per motivi di gelosia. Durante la perquisizione della abitazione a Villa Romana, frazione di Carsoli militari hanno rinvenuto oltre alla pistola occultata e detenuta irregolarmente, utilizzata per l'esplosione del colpo nei confronti del figlio. Altre cinque pistole, di cui due modificate artigianalmente, con matricola a brasa, risultato oggetto di furto denunciato. Poi vari caricatori, circa 70 proiettili di calibro diverso e quattro armi bianche. Il 54enne, al momento dell'arresto, è stato trovato in stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol ed è stato rinchiuso nel carcere di Avezzano. Proseguiamo, andiamo a Pescara, dove ieri pomeriggio nella caserma Ermanno Parete è stata celebrata la cerimonia per il 244esimo anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza. Vediamo il servizio. 88 indagini di polizia giudiziaria e 1128 accertamenti che hanno consentito di segnalare all'autorità giudiziaria 58 persone con un arresto e rilevare circa 9 milioni e mezzo di euro di contributi illecitamente richiesti o percepiti su un totale di circa 40 milioni di euro di appalti controllati e sequestri per un valore totale di circa 2 milioni e 600 mila euro con confische di 1 milione e 6 con un danno erariale totale accertato pari a circa 12 milioni di euro. Sono questi i dati snocciolati dalla Guardia di Finanza per l'anno 2017 e per i primi 5 mesi del 2018 relativamente all'azione di prevenzione e repressione delle condotte illecite legate alla ricostruzione sia pubblica che privata a seguito del sisma del 6 aprile del 2009 e di quello del gennaio dello scorso anno. I risultati sono stati resi noti in occasione della cerimonia per il 244esimo anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza che si è celebrato nella caserma di Pescara intitolata al Vice Brigadiere Ermanno Parete, sede del Reparto Operativo Aeronavale e del Nucleo di Polizia Economico e Finanziaria. La cerimonia ha avuto inizio con la deposizione da parte del Comandante Regionale per l'Abruzzo Generale di Brigata Flavio Agnello di una corona di fiori nei pressi della targa commemorativa intitolata al Vice Brigadiere Parete. Successivamente il Generale ha deposto una corona di fiori sul monumento eretto in onore delle 29 vittime della tragedia di Rigopiano. Cambiamo argomento. Tavola rotonda sull'economia regionale e provinciale organizzata dalla Camera di Commercio di Teramo per fare il punto sull'andamento economico degli ultimi dieci anni. Durante questo decennio in Abruzzo si sono persi 14 mila posti di lavoro e l'artigianato continua ad essere l'anello più debole della ripresa. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Nella giornata dell'economia organizzata dalla Camera di Commercio di Teramo si è fatto il punto sugli ultimi dieci anni di crisi economica che hanno colpito il territorio e ridefinito le dinamiche del sistema produttivo. Con l'uscita dall'obiettivo 1, tanti investitori si sono defilati e la piccola e media impresa non ce l'ha fatta a sopravvivere con effetti devastanti sul mercato del lavoro. Dal 2008 al 2018 in Abruzzo si registrano 14 mila occupati in meno anche se ci sono forti segnali di ripresa nell'occupazione nell'ultimo anno con un 7,9% in più. I dati sull'economia abruzzese sono abbastanza incoraggianti almeno sotto il profilo occupazionale nel senso che noi abbiamo rispetto al primo trimestre del 2017 una crescita di circa il 7%. Ovviamente questo sviluppo occupazionale è da attribuire in gran parte al lavoro occasionale, al lavoro a termine. Il problema positivo però è che questa regione quando c'è una ripresa economica riesce ad agganciarsi riesce a sviluppare un percorso interessante ma il problema giovanile rimane fermo nella sua interezza. Nel settore dell'artigianato in provincia di Teramo la situazione è ancora davvero nera. Il trend continua ad essere negativo con meno 82 imprese solo nell'ultimo anno e con una ricostruzione che non riesce a partire. La sostanza è che l'economia del nostro territorio non ha colto appieno il vento dalla ripresa che c'è stata leggera a livello nazionale. Abbiamo sostanzialmente difficoltà dovute alle calamità naturali quindi settori importanti come l'agricoltura, il commercio e il turismo registrano ancora forti difficoltà sul settore dell'artigianato e abbiamo buone performance invece nel settore dell'export con indicatori positivi per quanto riguarda a settori importanti come la pelletteria e abbiamo anche una crescita occupazionale. Dobbiamo riscontrare che su molte cose, sugli incentivi alle imprese, sui fondi di garanzia, i confidi, abbiamo la giusta attenzione da parte del vicepresidente Lolli. Quando poi però la palla passa ai tecnici, ai dirigenti della regione, ci sono risolte lungaggini burocratiche che stanno comportando che comunque l'economia abruzzese potrebbe naturalmente avere qualche segnale di ripresa in più e purtroppo l'impasse della pubblica amministrazione impedisce questo. I consiglieri comunali di centrodestra del comune di Pescara hanno chiesto un differimento di tempi rispetto alla data del 1 gennaio 2022 che dovrebbe segnare la nascita della nuova Pescara pur ribadendo il sì alla città metropolitana. Sentiamo le ragioni nel servizio di Paolo Renzetti. Ormai la questione se si debba realizzare o meno questa nuova entità importante diventerà una delle città più importanti in Italia è un problema superato perché tutti hanno preso contezza e coscienza dell'esito di un referendum che c'è stato quattro anni fa e i cittadini hanno deciso che questo percorso si debba fare. Quello che ci lascia molto perplessi sono i tempi invece cioè ravvicinarli attuare già dal 1 gennaio 2022 una fusione che comporta una serie di processi, di articolazioni e di percorsi molto molto complicati che possono creare se accelerati in maniera improvvisa possono creare disagi soprattutto ai cittadini. Oltretutto si sono persi altri sei mesi da parte del Consiglio regionale solo questa settimana registriamo un'improvvisa accelerazione da parte del Partito Democratico quello stesso Partito Democratico che ha un Presidente della Giunta regionale che in questo momento occupa due posizioni incompatibili quello di Senatore e quello appunto di Presidente della Giunta regionale. Cosa comporta questo? Comporta che c'è il rischio concreto che atti importanti come quelli che potranno essere assunti proprio rispetto alla nuova Pescara possano essere nulli o comunque improduttivi di effetti che un giorno qualcuno con l'autorità giusta possa dichiarare nulli questi atti e quindi dire signori abbiamo scherzato. Allora il tempo è importante le decisioni sono state assunte però noi chiediamo di riflettere sul fatto che oltretutto due comuni entreranno in campagna elettorale già tra qualche mese perché si voterà a Pescara e si voterà a Montesilvano nel 2019 e quindi chiediamo che venga assegnato un termine diverso lo chiediamo ai nostri consiglieri regionali ma lo chiediamo all'intero consiglio regionale in virtù di questa serie di rilievi. Adesso ci spostiamo all'Aquila andiamo a seguire il dibattito sul nuovo ospedale che va realizzato nel capoluogo va fatto in modo serio con una riflessione aperta secondo il manager dell'Asl Tordera. Sul Mona avrà il primo nosocomio antisismico si lavora anche per Avezzano ed è necessario intervenire sull'Aquila visti i costi di gestione altissimi del San Salvatore. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Il dibattito sul nuovo ospedale dell'Aquila ancora non decolla dopo l'annuncio dato dall'assessore Paolucci di volerlo realizzare non si è mosso praticamente alcunché perché è chiaro che va trovato un finanziatore privato con i cosiddetti project financing più volte auspicati dall'attuale manager Rinaldo Tordera. L'ospedale per come è dislocato ha dei costi di gestione altissimi oggi anche il sindaco Biondi aveva parlato della necessità di avere un nuovo nosocomio soprattutto perché sul Mona ben presto lo avrà a stare il primo antisismico e si lavora anche per Avezzano. Allo Stato non c'è nulla di concreto nessun privato si è rivolto al momento no e non appena ciò avverrà ovviamente ne sarete informati. Il tema è molto importante e noi abbiamo apprezzato molto il fatto che l'assessore Paolucci e quindi la Regione abbiano messo a disposizione una somma intorno ai 40 milioni per finanziare diciamo ristrutturazioni e o nuove costruzioni per quanto riguarda l'ospedale dell'Aquila. Ricordo che stiamo completando l'ospedale di Sul Mona che sarà il primo vero ospedale antisismico della nostra regione credo che faremo in autunno il passaggio al nuovo ospedale e abbiamo avviato le procedure di iniziativa ASL per la progettazione dell'ospedale di Avezzano quindi una seria riflessione sull'ospedale dell'Aquila va sicuramente fatta. Uno dei problemi più grandi che affligge l'ospedale aquilano è la piaga dei parcheggi interventi per come oggi non se ne possono fare alcuni spazi nel retro sono ancora occupati da casette che ospitano servizi medici alcuni spazi sono sacrificati ma di certo questi cambierebbero poco anche in questo caso il problema non potrà avere una risoluzione se non ci sarà un intervento esterno. Allo Stato la situazione non è francamente risolvibile nel senso che la situazione è questa però io confido nel fatto che se arriverà qualche proposta di progetto di finanza sicuramente non potrà non comprendere una sistemazione dell'area parcheggi perché è inevitabile. Il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso ha illustrato nel corso di una conferenza stampa i dettagli della sottoscrizione dell'atto di concessione finanziaria relativo all'intervento previsto nel Masterplan per la valorizzazione e il recupero di Villa Torlonia e Parco Torlonia da Vezzano l'importo dei lavori 4 milioni e 700 mila euro sentiamo Sono 5 milioni di euro e non derivano da Prisma nel 2011 si è messo in cammino un voluminoso dossier denominato Prisma so che non ha dato un euro a nessuno in Abruzzo il Masterplan per l'Abruzzo firmato da me e Matteo Renzi anche in questo caso ha assegnato 5 milioni di euro al meritevole comune di Avezzano meritevole poiché sta condividendo in pieno questo piano ambizioso di valorizzazione dei beni patrimoniali che ci sono lì per la Marsica da Vezzano ma che abbiamo di grande valore anche in tanti altrove dell'Abruzzo Arrivano fondi del Masterplan per Palazzo Torlonia per il pacco di Villa Torlonia da Vezzano 4 milioni 700 mila euro sindaco una cifra importante per riportare a nuova vita uno dei luoghi simbolo della città di Avezzano certo è un palazzo a cui teniamo molto il Palazzo Torlonia una villa antica che è al centro della città nel cuore della città che ci permette insomma di effettuare una ristrutturazione per poi riaprire questo palazzo all'utilizzo della cittadinanza intera noi nel frattempo stiamo attrezzando anche l'area circostante al Palazzo Torlonia quindi stiamo ristrutturando con risorse nostre proprie del Comune di Avezzano anche la Villa Torlonia la Villa Antistante e qualche altra struttura adiacente per cercare di integrarlo con questo Palazzo Torlonia che sarà ristrutturato e creare il più grande parco urbano che esiste insomma nella città di Avezzano una cosa sarà molto bella interessante e sicuramente apprezzata dai cittadini di Avezzano torniamo a pescare emergenza scuole ne ha parlato in conferenza stampa a Palazzo di Città il consigliere comunale di Forza Italia Eugenio Seccia vediamo in che termini prevenzione antincendio stabilità sismica degli edifici scolastici Forza Italia lancia l'allarme e parla di situazione emergenziale per alcuni plessi perché consigliere Seccia? Noi leggiamo le carte cioè le delibere che l'amministrazione Alessandrini ha prodotto il 22 di maggio quindi praticamente per rispondere ad un bando regionale sull'adeguamento sismico e alcuni impianti delle scuole fatto il 26 di maggio alla regione Abruzzo leggendo le carte si evince che quattro scuole quindi la Andersen di via Salarecchia l'Antonelli di via Vergilio la Don Milani e la Michetti sono diciamo a rischio sismico hanno una soglia al di sotto della norma sismica e pertanto ci aspettiamo che come hanno fatto per San Silvestro Colle dove hanno trasferito dal 26 di marzo non attendendo la chiusura delle scuole vengono trasferiti i bambini e lo facciamo a giugno non diciamo a settembre mettendo in difficoltà l'amministrazione comunale trovino una soluzione alternativa per trasferire questi bambini in scuola adeguata sismicamente e con non problemi di certificazione della prevenzione incendi come per alcune per alcune scuole di queste una di queste per intenderci l'amichetti che si trova sul via del circuito dove sono i vigili ci chiediamo anche se i vigili abbiano questa certificazione oppure no ovviamente è una provocazione per questa per sottolineare che non si possono fare gli annunci come ha fatto l'amministrazione Alessandrini e Cuzzi già da settembre dicendo che siamo bravi siamo belli e mettiamo in sicurezza tutto spendendo solo la richiesta per la regione Abruzzo che ha divenire la valutazione eventualmente il finanziamento di questi progetti quindi sarà lunga l'iter e non si può ingannare la città dicendo che siamo bravi perché abbiamo messo a norma avete fatto solamente richieste e nella linea che avete assunto a San Silvestro ci attendiamo che l'assumino anche per queste altre quattro scuole chiudendo le scuole e trovando alternative andiamo avanti si risolve almeno sembra la situazione dell'appalto per la pulizia nei progetti case utenti inferociti per servizi pagati e non erogati una nuova ditta ha vinto l'appalto a settembre dovrebbe iniziare riassumendo i dipendenti della vecchia società sarà la Cooperpool di Salerno la nuova ditta che si occuperà delle pulizie al progetto case presumibilmente da settembre dopo le note vicende e anche le tante polemiche che hanno caratterizzato fin qui la gestione con una ditta completamente inadempiente che non pagava gli operai e con gli utenti che spesso si sono lamentati di pagare dei servizi che però di fatto non sono stati mai erogati ma non è la prima novità perché ci sono anche altri interventi che riguardano i progetti case in particolare 5 interventi i primi per mettere mano a questo complesso patrimonio immobiliare in maniera organica dopo 9 anni in particolare alcuni interventi sono già stati eseguiti Paganica, Gignano, Copito 3, Sassa, Sant'Antonio e Bazzano si è trattato principalmente di piccoli lavori per rivarare delle infiltrazioni per mettere in sicurezza le scale condominali per realizzare anche l'impermeabilizzazione delle coperture o semplicemente per riparare tapparelle danneggiate l'amministrazione con i fondi a disposizione ha ritenuto di portare avanti subito i lavori più urgenti anche in alcuni mapp gli interventi più consistenti invece sono stati appalti e si realizzeranno entro l'anno riguarderanno Paganica 2, Copito 3, Bazzano, Sant'Antonio e Cesi di Preturo interventi che vanno dalla manutenzione degli elementi legno e metallo alla sostituzione delle parti deteriorate dalla sistemazione del vano scala che collega i garage al primo livello alla realizzazione di sistema di raccolta delle acque e dei vani ascensori e ancora saranno sistemati i balconi togliendo il legno e sostituendolo con grigliati in acciaio e altro ancora saranno sistemati anche delle mattonelle rotte o battiscopa danneggiati sia dentro che fuori sono risposte alle sollecitazioni date dai residenti ha spiegato l'assessore Guido Lils abbiamo pensato a dei lavori organizzati per lotti funzionali ce ne saranno anche altri per quanto riguarda invece le imprese di pulizia e questa presumibilmente inizierà ad operare dopo l'estate ci vogliono i tempi tecnici per il licenziamento e la riassunzione del personale che dunque confluirà in questa nuova ditta di Salerno A Pescara nell'area antistante l'ex Omni in via del circuito c'è stata la consegna dei lavori di riqualificazione della struttura Consegnati ufficialmente questa mattina i lavori per l'ex Omni di Pescara Sindaco Alessandrini questa è una struttura e questo è un immobile che voi volete riqualificare L'ex Omni negli anni 30 ospitava diciamo i bimbi orfani poi ha avuto lunghe chiusure per un po' è stata la sede della Polizia Municipale noi avevamo la necessità di trovare i fondi sufficienti un milione di euro circa per completare i lavori per evitare naturalmente che si ascrivesse alla lunga e lamentosa lista delle opere incompiute abbiamo trovato un accordo molto vantaggioso con Pescara Energia Pescara Energia è una società partecipata pubblica gioiellino del comune di Pescara che si assunta all'onere del completamento e quindi Pescara Energia che paga lavori che complessivamente valgono 750 mila euro circa che dureranno un anno e che determineranno il completamento della struttura in questo modo Pescara Energia avrà una nuova sede e il sistema pubblico risparmierà l'affitto dei soldi che oggi si pagano per la sede attualmente in cui è ubicata Pescara Energia e di contro Pescara Energia occuperà la metà dell'edificio l'altra metà sarà sempre nella disponibilità del patrimonio pubblico e noi pensiamo di fare lì la casa della protezione civile il perno di questo sarà tuttavia una centrale operativa per la videosicurezza è un progetto molto importante con la prefettura vi partecipiamo da un lato insieme ai comuni della Corona Montesilvano Spoltore Città Sant'Angelo e dall'altro autonomamente ci sono dei finanziamenti c'è una quota di cofinanziamento che mettiamo e contiamo ma di questo dobbiamo parlarne fra almeno un mesetto che appunto quel luogo possa divenire il centro di Pescara Sicura restiamo a Pescara dove sabato pomeriggio nel porto turistico c'è stata la cerimonia e possiamo vedere le immagini di intitolazione del padiglione espositivo della Camera di Commercio al compianto presidente dell'ente camerale primo presidente della Camera di Commercio unica di Chieti e Pescara Daniele Becci prematuramente scomparso il 6 gennaio scorso l'attuale presidente della Camera di Commercio Mauro Angelucci ha ricordato l'eredità lasciata da Becci sottolineando come ci sia la volontà da parte della nuova giunta della Camera di Commercio di portare avanti il lavoro iniziato da Becci che poi è stato ricordato anche dal sindaco di Pescara Marco Alessandrini che lo ha definito patrimonio dell'intera cittadinanza e dal sindaco di Chieti di Primo che ne ha ricordato le doti di mediatore che lo hanno portato a completare per l'appunto il cammino di fusione degli enti camerali di Chieti e Pescara e adesso passiamo alla pagina dello sport il mercato del Pescara stenta ad entrare nel vivo tante le voci ma pochi gli affari conclusi se Brugman non dovesse partire il centrocampo non sarebbe privato di un assoluto pilastro la priorità allora sarebbe la caccia ad un centravanti capace di far fare alla squadra un salto di qualità il punto della situazione nel servizio di Andrea Costantini il rifiuto del portiere Vincenzo Fiorillo all'offerta degli azzeri del Carabag è stato un mini sussulto in una fase di calcio a mercato piuttosto stagnante per il Pescara tante le voci ma pochissime le operazioni in entrata concluse la sensazione è che una parte cospicua delle cessioni e degli acquisti sarà portata a termine al raduno già iniziato ricordando peraltro che il mercato quest'anno durerà un paio di settimane meno apertura ufficiale prevista per domenica prossima primo luglio e chiusura venerdì 17 agosto alla vigilia della prima di campionato di Serie A e ad una settimana dall'inizio di quello cadetto l'evento che più può condizionare le mosse del presidente Sebastiani e del DS Leone è la cessione di Gaston Brugman valutato non meno di 3 milioni di euro come detto più volte il giocatore è nei radar di squadre italiane tedesche francesi e soprattutto spagnole ma ad oggi nessuna proposta ufficiale è giunta sul tavolo del Delfino la cessione darebbe maggiori risorse da poter riversare sul mercato in entrata in caso di mancata partenza il Pescara avrebbe comunque in organico un elemento cardine intorno al quale costruire la squadra per il prossimo anno pur con qualche disponibilità in meno con Brugman in rosa la priorità assoluta diventerebbe il centro avanti considerata la partenza di Pettinari e quella scontata di Cocco mentre Bunino al momento sembra essere un profilo buono come alternativa non come il titolare da 15-20 gol la pista Melchiorri non è semplice perché il Carpi vuole trattare col Cagliari la permanenza in Emilia perché sull'attaccante marchigiano si è fiondato anche il Lecce non pago di Pettinari e perché ma questo scoglio vale per tutti Melchiorri ha un ingaggio molto alto per la Serie B così sembrano restare in piedi le soluzioni la mini-Yalou del Chievo lo scorso anno in prestito al Cesena e Bruno Petcovic del Bologna appena rientrato dal prestito al Verona circa il settore secondo i punti esterni si attendono sviluppi dall'operazione con il Genoa Luigi Carillo difensore di proprietà del Pescara l'ultima stagione in prestito al Pisa ha già superato le visite mediche col club di Preziosi in cambio il Pescara potrebbe ottenere Riccardo Improta e Raul Asensio anche se il dilatarsi dei tempi ha portato alcune squadre Benevento in primis a fare un sondaggio in particolare per Improta così come sempre col Genoa si sono dilatati i tempi per l'operazione Zampano-Fiamozzi meno preoccupazioni destra il settore della difesa con la permanenza di Fiorillo tra i pali e la probabile conferma di Campagnaro il reparto potrebbe subire variazioni in caso di partenza di Fornasier e l'arrivo di un centrale di categoria come Scognamiglio sulle fasce sempre in attesa di sviluppi sul fronte Zampano l'acquisto a parametro zero di Cegliento e le permanenze di Balzano e Crescenzi danno adeguate garanzie la società sta anche vagliando il prolungamento del contratto col terzino Scuola Roma Scendiamo di categoria restando sempre al calcio ci occupiamo di serie D anche il prossimo anno Mateus Dos Santos guiderà l'attacco dell'Avezzano il presidente Paris proprio in queste ore ha strappato il sì del centravanti brasiliano una importante conferma anche a Pineto quella del centravanti Simone Tomassini vediamo il servizio L'Avezzano e Mateus Dos Santos ancora insieme la conferma più attesa in casa marsicana è arrivata un grande sforzo quello del presidente Gianni Paris che ha secondato le richieste del centravanti brasiliano miglior marcatore del girone F nell'ultimo campionato L'Avezzano va dunque completando la raffica di permanenze dal tecnico Giampaolo ai pilastri della squadra che si presenterà in aste di partenza come una naturale candidata alla vittoria del campionato il modo migliore dunque per cancellare la delusione per la trattativa con l'ex aquilano Boldrini che si è accasato al Modena ora tra le ultime conferme da centrare vi sono quelle del baby Michael Deramo l'esterno Saverio Pellecchia e il centrale Lucas Bardella tenendo presente che L'Avezzano come ha dichiarato il DS Iacovitti non farà spese insostenibili a proposito di attacco il Pineto ha praticamente sistemato il reparto dopo l'acquisto di Saverio Pedalino è arrivata la conferma di Simone Tomassini potenziale di fuoco dunque per la compagine adriatica che si candida ad essere anch'essa una pretendente alla vittoria finale chi invece cerca l'uomo gol per la stagione è il Francavilla anche se il patron Candeloro continua a guardare altri lidi e dopo l'interruzione della trattativa col patron del Teramo Campitelli ora ha avviato contatti con il presidente Bellini e il suo entourage per tentare di rilevare le quote di maggioranza dell'Ascoli il Francavilla aveva anche fatto un pensierino a Dos Santos ma ora dovrà cambiare obiettivo i nomi che circolano sono quelli dell'ex Rieti Luigi Scotto e dell'ex terramano Giuseppe Gambino se per alcune società le priorità sono i giocatori per altre si è decisamente più indietro è il caso dell'Aquila dove un passaggio decisivo ci sarà dopodomani giovedì quando il manager romano Gianlucaius firmerà il preliminare per l'acquisizione della maggioranza delle quote sociali e successivamente sarà nominato il nuovo CDA subito dopo salvo colpi di scena si procederà all'iscrizione al campionato e alle prime mosse relative a staff tecnico e all'estimento rosa priorità allenatore a San Nicolò e Giulianova in casa giallorossa il DS d'Ottavio ha tentato la mossa senza azione Ivo Iaconi che però ha declinato Guido Di Fabio resta allora in pole position ma d'Ottavio ha anche incontrato l'ex tecnico del Chieti Tiziano De Patre e l'ex campo basso Antonio Foglia Manzillo nelle prossime ore la scelta quella che a San Nicolò potrebbe ricadere sul marchigiano Mirko Cudini ex difensore di Torino Ascoli e Saritana che nel 2017 ha vinto il campionato di eccellenza delle Marche con la San Giustese Questo era l'ultimo servizio per quanto riguarda il nostro giornale io vi ringrazio per essere stati con noi vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.